Un sonetto che si riferisce a un fatto realmente accaduto, un viaggio a città vecchia molto dispendioso di Gregorio Sinicese. Le paterne dice, mentre a Zio di Parma, in un viaggietto solo, buttazzecchini a canestrare sane, va quello di Cagliari a manca e parla. Sai, risponde lui, me ne consono. Ah, tafino, brodato, strascialolo, grigio, ricascudero e scarse cane, che senza arte ne parte nelle mani, sei venuto a farlo per tinta loro. Questa è la ricompensa dell'avete steso le grinze, della sacra pazza, che prima che giocavano a 3-7, così ce ne vi è, parlo, nace a vento, insiderlo il legume che davanza, de quel pane che maglia gradimento. Credo che l'inventiva, l'inventiva maggiore non ci sia.